Non mi interessa sinceramente C'è tipo ci sono non so 20 o 30 gradi qua in camera Allora Giovanni Mastrello che diploma hai? Allora ragazzi questa è una cosa complicata che vi devo spiegare ragazzi ok? Forse la gente non capisce Allora ragazzi E bella tua visita del barri Benvenuti in questo nuovo video Io sono Mr.Dilan Io siamo qui in un nuovo video goliardico Oggi ragazzi andrò a rispondere tutte le vostre domande Che mi avete fatto su Instagram Quindi seguitemi tutti su Instagram Trovate i link sotto in descrizione E nel primo commento mi raccomando Arriviamo anche Perché manca circa 90 follow ragazzi Per arrivare ai 2600 Dobbiamo arrivare circa Quindi vi aspetto su Instagram mi raccomando Allora ragazzi Allora sto apriamo Instagram Un secondo Andrea Turi Che mi ha scritto come stai Beh io sto benissimo Fra sto bene Poi allora Nico Busa Che mi ha scritto Quante anni hai e che scuola hai fatto? Allora Io raga ho 19 anni Cioè non sembra però ne ho 19 Sono vecchio Hashtag Dillo sei vecchio nei commedios Se siete trovati fin qua Vabbè nel video social Vabbè fatelo comunque E che scuola ho fatto? Ho fatto la scuola professionale Ho preso una Poi c'è Saksedo Che mi ha scritto Mi segui su Instagram E dove vivi? Beh non seguo nessuno su Instagram Purtroppo Perché se dovrei seguirti a te Dovrei seguire tutti 2600 persone Che mi seguono 12.000 Su Youtube Tiktok Vabbè Non parliamo di tiktok Lasciamo per Poi c'è Cosa pensi Degli insulti Che ti fanno Quasi ogni volta Su tiktok Entendi Quali insulti Su tiktok Vabbè Su tiktok Mi danno tipo Non mi interessa Sinceramente Allora Martland Tifo l'Italia Agli europei Sì Tifo l'Italia Negli europei Sì hai ragione Ti piace la Poi c'è Best Bastard Che mi scrive La tua stufa È figa E sì ragazzi Perché praticamente Oggi mi è arrivata Una stufa Non so neanche Se la puoi definire stufa Credo più Raffreddamento Raga Insomma Poi mi è arrivato Un raffreddamento Che io uso Almeno per raffreddare Sì Perché qua In estate C'è una sauna Raga Per fare la sauna Non mi so C'è tipo Ci sono Non so 20 30 gradi Qua in camera Poi c'è Holy Giacomo Hai la patente? No E ho già L'ho già Resposto all'ultimo video Di questa cosa Della patente Poi c'è Giastuto Ma perché Non giochi Con me Raga Ci gioco Ai video Giochi Ma Più per Infatti Visto che Sul canale Non li porto Su questo Seguitemi Sul secondo Canale Di lì Trovate sotto Il link In descrizione Perché lì Se volete giocare Dovete iscrivervi A quel canale L'ariga Ok Allora Giovanni Mastrello Che diploma Hai? Allora Questa è una cosa Complicata Che vi devo Spiegare Ragazzi Ok Forse la gente Non capisce Allora Ragazzi Non ho un diploma E vi spiego Perché Ok Allora Perché Ragazzi Sono a scuola Ragazzi Visto che Io abito In Alto Adige Ok In Alto Adige Tipo C'è una scuola Che si chiama Scuola professionale Dove fai Tipo I tirocini I tirocini Sono tipo Vai in periodo A fare un lavoro Non so In un negozio Tipo Dove vuoi te Ti danno Il professore Il lavoro Devi andare In quella firma E lavorare Tipo Per un mese Non ricevi soldi Lì però E lì Raga Praticamente Ti Ti danno Questa prova Così vedi Se ti piace Quel lavoro E poi Quando compi 18 anni Ti assu Ti praticamente Un'altra agenzia Ti assume Per quel lavoro E lì ti danno Poi i soldi Per me Hanno fatto così Insomma E i ragazzi Sono andati a scuola A tedesca Perché abitano In Alto Adige E in Alto Adige Raga C'è La scuola Ci sono Tre tipologie Di lingue L'italiana Il tedesco E il latino Raga E qui Da noi In Alto Adige Tipo Quando compiete 18 anni Potete scegliere Se fa parte Nel Gruppo linguistico Italiano Tedesco O latino Raga E visto che Io raga Sono andato sempre a scuola La tedesca Raga Fino da quando Ero molto più piccolo Raga Io sono entrato Nel Gruppo Tedesco Insomma Adesso Poi Usciranno Nel Lodedì Scusate Se le faccio Scegliere In ritardo Però Raga È davvero Difficile Quindi Raga Tipo Io Ogni domenica Registro Il deal La risponde Quindi Raga Sì Per farvi capire Raga Quindi Vi cordo Ragazzi Iscrivete al canale Lasciate Like Attele Cappellina Con I video In questo Di tutti I vostri Amici Noi Ragazzi Ci vedremo Ad un altro Video Che adesso Dovevo pubblicare Più Video Su questo Canale Seguitemi Anche Sul canale Secondario E su Instagram Su Tutti Social E Noi Ragazzi Un altro Video Da